Non c'è posto, non c'è posto, non c'è posto, non c'è posto, non c'è posto. Alice, fedelebilemente in ritardo, mi dichi no. Tu hai idea del perché un corvo assomiglia a una scrivania? Cucchiaio. Mi piace. C'è un posto che non ha i quali sulla terra. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio. E per fortuna, io lo sono. Let's ride, gonna ride, let's ride, oh no. Let's ride, gonna ride, let's ride, oh no. E, oh no, let's ride, oh no. E, oh no, let's ride, oh no. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti